Quando i soccorsi sono entrati nell'appartamento di via Montanara, nel quartiere di Saione, hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione sul letto, completamente coperto da un lenzuolo. Era lì da alcuni mesi, ormai 4 o addirittura 6, come ha indicato il medico legale dopo l'esame esterno sul cadavere disposto dalla PM Giulia Maggiore. La 92enne Carla Bazzani indossava la camicia la notte e Iman aveva il telecomando della tv, accanto a lei il gatto, anche lui ormai senza vita. Un giallo i cui contorni restano tutti da chiarire nelle ultime ore, però le indagini hanno avuto un'accelerazione. La figlia dell'anziana, irreperibile per giorni, rintracciata dagli uomini della squadra mobile guidati da Davide Comitua e Rimini, è passata da persona informata sui fatti a indagata per abbandono di incapace. Dai riscontri sui movimenti bancari sarebbero poi emersi prelievi dalla pensione dell'anziana dopo la sua morte, un elemento che porterebbe gli investigatori a ipotizzare anche il reato di truffa ai danni dell'Inps, un quadro giudiziario che potrebbe così evolversi nuovamente. Per venerdì intanto è tesa l'autopsia che sarà eseguita dall'equipe del professor Gabrielli e che dovrà chiarire cause e tempi della morte della 92enne. Un analogo accertamento poi sarà svolto anche sulla carcassa del gatto che era stato ritrovato aggrappato al materasso. Resta da capire però il perché dell'allontanamento della figlia che al momento ha deciso di non rispondere alle domande degli inquirenti.